ci fa proprio piacere e un po' di positività adesso ce la porta anche Don Antonio, Mazzi, buongiorno Don i mattini ci siamo persi, stamattina vado un po' più pesante ma poi poi arrivo i vizi sono le cose che durano di più ed è qui che dobbiamo cambiare è qui che dobbiamo cambiare, capito? hai capito Giussi? dobbiamo cambiare i vizi? dobbiamo eliminarli? dobbiamo sterminare, vincere è la virtù che deve vincere va bene, va bene va bene grazie Don insindacabile ovviamente il giudizio di Don Mazzi però insomma toglieteci pure qualche vizio, non lo so io, comunque va bene Don Mazzi, tenteremo